E a proposito di Chiesa in uscita, ne abbiamo parlato prima con il nostro amico giornalista e scrittore Mario Scelso, parliamo anche il caso di dire di teatro in uscita che raggiunge le periferie, perché andiamo a Matera, dove fino al 27 giugno l'IAC, il Centro Arti Integrate, porta il teatro partecipato nell'area residenziale di Piazza degli Olmi. Siamo a Matera con Nessuno Resti Fuori, il Festival di Teatro Città e Persone. Siamo collegati con i co-direttori di IAC, Centro Arti Integrate, Andrea Sant'Antonio e Nadia Casamassima. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, buongiorno. Allora, io mi sposto, chiedo alla regia, ecco, mi scuso perché così non copro Nadia. Eccoci qua, eccoci, benissimo. Allora, work in progress, il bello della diretta, direbbe qualcuno. Allora, raccontateci come nasce questo festival. Nessuno Resti Fuori è un festival di teatro, città e persone, che nasce nel 2016 a Matera, in un momento in cui Matera era in una grande trasformazione, perché eravamo negli anni precedenti alla Capitale Europea della Cultura, quindi la città era in grande fermento. E noi abbiamo pensato ad un festival che andasse nelle periferie della città, che attraversasse i quartieri della città, che erano quelle zone che erano meno interessate dalle attività culturali che in quel momento stavano fiorendo in città. Quindi con un'idea di accesso alla cultura il più possibile allargata. Negli anni il festival ha attraversato tantissimi quartieri, fino ad arrivare quest'anno in una vera periferia della città. Dico una vera periferia perché i primi anni siamo stati in quei quartieri che sono stati costruiti subito a seguito dello spollamento dei sassi, quindi dei quartieri pensati con delle architetture pensate in qualche modo anche per riprodurre la dimensione comunitaria che c'era nei sassi. Quindi quartieri con delle case molto basse, con degli spazi comuni che potessero favorire la socialità delle persone. Quest'anno siamo in un quartiere di palazzoni di cemento, quindi per noi quest'anno è una grande sfida quello di invitare le persone a uscire dalle case e a ritrovarsi nella piazza. Oggi è la quinta giornata di festival, i primi tre giorni sono stati dedicati agli adolescenti, ci sono stati tre giorni di... c'è stata una proiezione, due spettacoli, un bellissimo incontro realizzato tra adolescenti di Matera e di Rovereto, Trentini che sono venuti a fare uno spettacolo curato da IAC in quest'ultimo anno, e il festival sta proseguendo con una grande partecipazione della città e appunto delle persone. Non è un festival soltanto di spettacoli, ma è un festival anche di laboratori. L'idea è quella di attivare la partecipazione delle persone e in particolare delle nuove generazioni. Ecco, parlavi appunto di giovani, di nuove generazioni, c'è un altro aspetto che vorrei sottolineare insieme a voi, nessuno resti fuori, è un festival attento ai percorsi che favoriscono artisti con disabilità. Chi vuole rispondere? Sì, questo è un... rispondo io... è una delle azioni che noi portiamo avanti da anni sul territorio e non soltanto, e non soltanto all'interno del festival. Devo dire che da sempre IAC ha operato per favorire questo tipo di processo, soprattutto rivolto a artiste e artisti che hanno diverso grado di abilità. Da alcuni anni siamo all'interno di una rete europea che si chiama Europe Beyond Access e ogni anno riusciamo ad ospitare un focus su artisti e disabilità. Quest'anno c'è una danzatrice con la sindrome di Down insieme a Marta Bellu, che è un'altra ragazza danzatrice, che portano in scena proprio questo pomeriggio alle 19.30 uno spettacolo dal titolo I versi nelle mani. L'obiettivo nostro è quello di far comprendere che in realtà non si può parlare di disabilità, ma bisogna cominciare a parlare di contesti disabilitanti, ovvero chiunque messo nelle giuste condizioni può danzare, chiunque può far teatro, chiunque può suonare. Questo lo diciamo veramente perché l'abbiamo provato negli anni. Quello che occorre fare è creare il contesto giusto e fare in modo che tutte le persone siano messe nelle condizioni di poter esprimersi al meglio. Ottimo, quindi molto bello quello che dici Andrea, se messi nelle condizioni giuste, nei contesti giusti, tutti siamo capaci di recitare, di danzare e di fare arte. Allora, lo abbiamo ricordato, siete al quinto giorno di festival che si concluderà il 27 giugno, cosa c'è ancora in cartellone e poi per gli amici che ci seguono da Matera o che magari hanno intenzione di raggiungervi. Bisogna acquistare un biglietto, prenotarsi, c'è un sito internet di riferimento. Diamo qualche indicazione logistica. Allora, abbiamo ancora queste quattro giornate davanti. Come dicevo, oggi c'è lo spettacolo I versi nelle mani alle 19.30, mentre alle 21.30 c'è uno spettacolo di marionette dal titolo La rivoluzione della grande draga. Uno spettacolo per tutti, per famiglie, bambini, adulti, però per tutti. Senza età. Domani invece c'è uno spettacolo di Andrea Cosentino che è un artista premiato con i premi Ubu che adesso per chi non è proprio addetto ai lavori sarebbero come i premi, i debiti di Donatello italiani, i premi del teatro. Lui porta in scena uno spettacolo veramente molto ironico dal titolo Cotechino Riff. Poi l'ultimo giorno abbiamo il gran finale con le chiusure dei laboratori insieme a Daniele Ninarello che è un coreografo e Sofia Me che è la marionettista che andrà in scena questa sera che faranno, costruiranno una parata di strada. Lo spazio in cui siamo è veramente molto grande per cui non c'è bisogno di prenotare. C'è un titolo d'ingresso, un biglietto che è da comprare lì al momento ma abbiamo anche una politica rispetto sempre all'accessibilità. non chiudiamo lo spazio ovvero chi vuol pagare il biglietto chi se la sente chi lo ritiene giusto paga chi invece per qualsiasi motivo fosse anche perché magari non se n'è accorto o perché è il suo quartiere quindi ritiene di essere l'ospite di casa può non pagare non facciamo nessuna selezione all'ingresso quindi davvero è molto aperto è una questione legata alla responsabilizzazione di che cosa vuol dire andare a vedere uno spettacolo. Il programma si può trovare sul nostro sito www.nessunorestifuori.it oppure sui social Nessunorestifuori.it Benissimo, io vi ringrazio per essere stati con noi chiedo poi magari chiederò anche all'ufficio stampa con la quale mi sono interfacciata se fosse possibile poi avere qualche immagine qualche video a mo' di pillola di questo evento a conclusione proprio per mostrare per condividere con i nostri telespettatori quello che è stato fatto perché davvero ci piace poter dare voce alle associazioni a coloro i quali fanno qualcosa di importante interessante edificante per il proprio territorio quindi grazie di cuore ad Andrea Sant'Antonio e Nadia Casamassima per essere stati con noi questa mattina grazie, buon lavoro grazie a voi, grazie mille grazie e ricordiamo, grazie speriamo di vederci presto ricordiamo che questa intervista così come le altre le potrete ritrovare nel primo pomeriggio sul nostro canale YouTube e naturalmente salutiamo anche coloro i quali ci seguiranno in replica nel corso della giornata bene, allora 9.42 andiamo subito in pubblicità e poi le parole di Don Francesco Armenti con Dritto al Cuore grazie a tutti